Situazione ancora molto grave per quanto riguarda il trasporto pubblico locale. I lavoratori, ma soprattutto gli utenti, sono molto delusi dalla gestione del trasporto pubblico locale in maniera particolare in provincia di Teramo. I sindacati hanno lamentato la mancanza soprattutto di dialogo con TUA e soprattutto con la Giunta regionale. A questo proposito ho presentato un'interpellanza che mi auguro sarà discussa al prossimo Consiglio regionale dove possiamo fare insieme una riflessione sulle criticità del trasporto pubblico locale a cominciare dalla situazione difficile sindacale con i lavoratori alla alta evasione tariffaria alla mancanza di controlli. Siamo in piena pandemia, tanti lamentano sia le sanificazioni sia i controlli per quanto riguarda i Green Pass. Una situazione da affrontare con urgenza e ci auguriamo che al prossimo Consiglio regionale ci sia questa discussione puntuale con risposte puntuali da parte della Giunta regionale.